Ciao a tutti ragazzi sono Arfi112 e quest'oggi a grande richiesta vi farò un piccolissimo video tutorial su come eseguire diciamo le skill più efficaci, quelle che utilizzo io ovviamente, come difendersi dal kickoff glitch e come difendere sul calcio d'angolo. Ovviamente queste sono tutte richieste che mi sono arrivate dagli utenti. Allora ragazzi partiamo con la prima skill, ve la faccio vedere con Messi perché con Messi e con Neymar vengono in maniera proprio perfetta, quindi bisogna prima dargli la direzione con R3 e poi con la freccetta analogica in avanti. Guardate, dall'altra parte, dall'altra parte, adesso va fatto il fallo. Come vi dicevo poi ogni giocatore ha il suo stile per fare questa finta, tipo Neymar lo fa con la suola. Io con Neymar veramente faccio uscire fuori di testa gli avversari perché con Neymar è una prelibatezza fare questa finta. Poi il doppio tocco e il tiragiro è la specialità della casa. Questa qui, questa finta doppio tocco e tiragiro ha ispirato il campione europeo nonché il mio player nei clash, Naples 17x Carmine Liuzzi. Quindi ragazzi, per imparare a fare questa skill basta guardare bene il joy pod, tocco sotto, tac, con R3, verso sinistra con la freccetta, ecco qua, o sopra, 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 è semplice, non è complicato, ci vuole solo allenamento, hop, hop, hop. Poi un'altra finta efficace che a me piace tanto, eppure questa non è che con tutti i giocatori viene bene, ogni giocatore ha il suo modo di farla, è questa qua. Questa è comoda per disorientare gli avversari. Questa è un ottimo modo per mandare fuori i giri l'avversario, guardate bene il joy pad che c'è sotto la mia webcam ed è veramente molto molto efficace. Io utilizzo tantissimo sia il doppio tocco che la pirouette. Adesso vi faccio vedere con Neymar come viene diversa anche questa finta qua. Hop, hop, hop. Questo è un ottimo modo per smarcarsi, hop. È inutile a dirvi ragazzi che io con Neymar mi diverto una cifra a fare queste skill. disorienta un po' l'avversario questa finta qua, si può fare in tutti i lati. Questa invece era un'altra, questa era l'elastico che utilizzo veramente pochissimo. è un'altra, questa è un'altra, questa è un'altra. grazie e stopparla con il tacco. Quindi andate in fondo, quadrato X e premete verso la direzione opposta e vi fa lo stop che più che efficace diciamo serve per la bellezza dell'azione, ecco non è che efficacissimo. L'avete visto ragazzi? Voi gliela passate bassa, lui se la alza con R3 così e poi premete una direzione tenendo premuto R3 per fargliela portare però pure qua ci vuole tanto allenamento ragazzi che non è una cosa che riesce sempre. Ovviamente ragazzi per fare quella cosa lì con Neymar non è una cosa semplicissima ed è solo una cosa figurativa non ha nessuna efficacia anche perché comunque non devi essere prestato dai giocatori, se vieni prestato dai giocatori non viene deve essere veramente solo Neymar, quindi è solo una cosa che si fa per divertimento, non ha nessuna efficacia in game io ve l'ho mostrato però è solo bello da vedere ecco. Diciamo che le skill più efficaci da utilizzare nel gioco sono queste che vi ho fatto vedere con Messi e con Neymar adesso ragazzi vi farò vedere l'efficace doppio tocco e del tiro a giro, eccolo qua eccolo qua, doppio tocco e tiro a giro, questa è la mia skill preferita soprattutto da eseguire o con Neymar o con Messi ma specialmente con Neymar diciamo questo qua è chiamato anche l'alfi shot, l'alfi shot come ho detto in precedenza è la skill che ha permesso al campione europeo Carmine Liuzzi di portarsi a casa l'europeo è il gol decisivo fatto con Insigne negli ultimi minuti è una skill che diciamo non è che ha imparato da me perché Carmine non ha nulla da imparare da me però ha preso sicuramente ispirazione dal sottoscritto un altro comando ragazzi fondamentale per il gioco è il supercancel molti non sanno cosa significa supercancel praticamente è la possibilità di annullare un'azione quindi io sto per tirare ecco qua, premo R1 ed R2 e si annulla l'azione sto per tirare, hop e si annulla faccio il passaggio, hop e si annulla guardate, ed è la cosa fondamentale da conoscere ragazzi carico, hop e annulla cross, hop e annulla passo, hop e annulla la passo, sta andando all'avversario, annulla la passo, vedo che è spressa, annulla faccio il cross, mi rendo conto che è sbagliato e annulla questa è una mossa fondamentale soprattutto col portiere a volte capita che tu la stai passando vicino adesso vi faccio vedere ok, questa qua è una mossa soprattutto utile per il portiere supercancel guardate, hop, hop e annulla l'azione oltre che la puoi annullare con la doppia X però a volte capita che tu già hai fatto la doppia X se stai sbagliando il passaggio tac e premi il supercancel quindi mi raccomando ragazzi un'altra cosa che mi chiedete sempre nel live è come mandare avanti un giocatore adesso diciamo che è semplicissima cosa come cosa adesso palla covierà voglio mandare avanti Bissaka L1 verso di lui e Bissaka se ne vanno avanti gli passo la palla arriva palla Bissaka Bissaka vuole mandare in avanti Messi L1 con R3 lo manda in avanti e gliela passa poi anche Messi torna indietro vuole che Van Bissaka salga ecco qua, paf L1 R3 verso Bissaka Bissaka parte in avanti eccoci qua e saleva in avanti ed effettua il suo cross quindi questa è un'altra mossa utile per far salire i giocatori perché a volte per le loro caratteristiche rimangono fermi tu così facendo gli ordini di sovrapporsi o di andare avanti ecco qua Cruif voglio che Messi si inserisce ecco qua e Messi si inserisce un po' doppio tocco tiro a giro e fuori spero di essere stato abbastanza chiaro adesso ragazzi vi farò vedere come difendervi da un calcio d'angolo la prima cosa da fare sul calcio d'angolo è premere L3 a sinistra e poi mettere marcatura mista in modo tale che i giocatori rimangano tutti al centro in quel modo lì e difendono l'area di rigore così se crossa al centro hai tutti i pilastri al centro dell'area oltre a questa cosa qua il consiglio che vi do è di selezionare il giocatore più vicino alla bandierina e di avvicinarlo così sotto in modo tale che se il vostro avversario crossa al centro in maniera tesa quindi facendo quei cross pericolosissimi al centro dove si segna quasi sempre voi annullate questo tipo di cross da parte del vostro avversario adesso invece andiamo a vedere come difenderci dal kickoff glitch ovviamente la cpu non è che farà il kickoff glitch però io vi spiegherò come difenderlo come prima cosa la maggior parte delle difese nel my club hanno una difesa alta cosa bisogna fare? io utilizzo istruzione avanzata e la tattica avanzata linea difensiva a basta in questo modo la linea difensiva rimane molto bassa rispetto al normale poi come seconda cosa loro battono io vado subito a selezionarmi il difensore e scappo all'indietro guardate il difensore nella mappa scappa all'indietro io ho ancora selezionato il difensore in questo modo qua voi andrete a contrastare in maniera manuale questa azione adesso ragazzi fa vedere come togliere i giocatori dai binari guardate la passa indietro via Rato con tutto il cancel togliete i giocatori dai binari guardate non va verso la palla questa mossa qui è super efficace per avere piena libertà dei movimenti con il giocatore perché il giocatore va sempre verso la palla guardate la passa e lo togliete dai binari questo soprattutto sulle rimesse dal fondo del portiere è molto utile questa mossa qui perché togliendolo dai binari voi avrete la possibilità di eludere la difesa da parte del difensore e di posizionarvi davanti quindi il portiere spazza voi premete R1 ed R2 vi togliete dei binari vi portate avanti al difensore e state sicuri che la prenderete quasi sempre voi di testa ovviamente spiegandolo così sembra facile ma ci vuole veramente tantissimo allenamento ma per tutte le cose che vi ho spiegato adesso ragazzi veramente ci vuole tantissimo allenamento non è che voi arrivate e siete pronti a fare le skill e cose varie oppure la difesa dal calcio d'angolo sono tutte cose che poi vi verranno automatiche con l'allenamento perché purtroppo non è nulla semplice io ve l'ho spiegato in modo abbastanza semplice ma poi metterle in pratica ci vuole un po' di tempo e un po' di esperienza anche perché tutte quelle skill lì che vi ho spiegato sono efficaci solo facendole al momento giusto a me chi mi segue live sa benissimo che io le faccio quasi sempre al momento giusto e sono super efficaci se le fai così a vuoto senza giocatori che vi contrastano diciamo sono fini a se stesso solo a livello visivo per fare un'azione bella ma non è che sono efficaci ragazzi anche questo mini tutorial è terminato io spero che vi sia piaciuto questo video mi raccomando tempestratelo di like e condividetelo con i vostri amici se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sul mio canale twitch iscrivetevi sul mio canale youtube ed attivate la campanellina mi raccomando al raggiungimento dei 100 like vi farò un nuovissimo video tutorial grazie alla prossima ciao ragazzi